La venticinquesima edizione del Barocco Festival decolla dall'aeroporto di Brindisi, dove la manifestazione che celebra la musica antica e il genio del San Vitesse Leonardo Leo è stata presentata alla stampa dal direttore artistico Cosimo Prontera. Presenti tra gli altri la sindaca di San Vito dei Normanni, Silvana Enrico, e l'assessore al turismo del comune di Brindisi, Emma Taveri. L'idea di presentare il festival nell'aeroporto di Brindisi è quello appunto di alienarlo da quelli che sono le ultime sacche, diciamo così, di provincialismo, per lanciarlo, non lanciarlo, per avere quegli ambiti europei che il festival si è prefissato. Un festival che dura da 25 anni, con musicisti che vengono da tutto il mondo, direi, ma particolarmente dall'Europa, non ha fatto altro che poriettarci in questi ambienti e facendoci arrivare al centro di quel movimento che era e che è la early music. 13 gli eventi cartellone, primo appuntamento domenica 21 agosto nel chiostro dei Domenicani di San Vito dei Normanni con gli amici veneziani Ensemble e il soprano tedesco Simon Kermes, presente alla conferenza stampa, accanto al maestro Prontera. Leonardo Leo lo vogliamo far conoscere ma soprattutto lo vogliamo esportare, lo vogliamo far diventare patrimonio di tutti. Il mio grande successo sarebbe farlo diventare patrimonio dell'umanità, però è la musica, la bellezza, così come ci ha raccontato il soprano, ci ha detto che solo attraverso la bellezza noi riusciremo a rinascere, riusciremo a ripartire.